Ciccioli, ricotta e formoglio pezzi Un po' di pecora E questo di cosa sono fatto? Questo è il pane, il lievito ha costato Il solito pane insomma Poi si riempie di formaggio Ma questo è fresco da 3-4 giorni Il palma Non sei il palma Non è vero Non è vero Invece che arriva Neanche guarda Signorina Solo le mani lavorano Gli occhi non hanno cuore Non è vero E' bello E' bello sapere questa roba La fegge di Non c'è Boris qua con l'Istituto. Siamo tutti qua. Queste sono le formaggelle, ieri le avete mangiate... No, casattine però si chiamano. Le avete mangiate sotto forma di dolce. Queste invece non sono dolce ma è salato. E' salato però ecco. Però guardi, guardi. La maestria è quella? Si, viene come una torta, come i piccichetti. Eccola qua. Oh scotta, scotta. Come? Ancora scotta, Lucio. E no, scotta. Si, si. Signora, buonissimo. C'è tornati. Si è tornati. Buonissima. Buonissima.